Eccoci, buona giornata a tutti, lieto di ritrovarci tutti, io e Gabriele saremo gli Usain Bolt del software libero a questo punto, eh? Dai, visto che siamo un pochettino in ritardo, vedo di riepilogare con sintesi alcuni focus. Sì, eccoci, grazie Gabriele, così favoriamo assolutamente lo streaming, l'abbiamo lasciato aperta per i saluti. Allora, titolo, una scuola tra le nuvole, perché il virgolettato? Perché le nuvole possono essere sia concettualmente l'idea di cloud che l'idea di desiderio. Ed allora, capiamo meglio a che cosa io faccia riferimento? Allora, in veramente nemmeno un minuto, per chi non mi conoscesse, Andrea Cartotto, sono un docente, formatore professionista, mi occupo da anni di software libero, sono molto orgogliosamente socio e da quest'anno consigliere eletto di Libre Italia e da diversi anni altrettanto orgogliosamente membro, insieme a tanti colleghi che sono qui con me, di The Documents Foundation, la casa di LibreOffice e non solo. Keywords, però parliamo un po' in lingua italiana, da che siamo nel nostro paese. Le parole chiave di questi mesi. E visto il focus e il tema chiave del mio intervento, cosa è accaduto nelle scuole di ogni ordine grado? Lancio subito un messaggio, neppure troppo subliminale, e mi permetto di farlo perché non l'ho letto sul libro ma l'ho vissuto ogni giorno, seguendo la DAD e la DDI in molti istituti scolastici della Liguria ed Italia. La DAD fa male a chi non sa farla. Mi duole dire questa cosa, lo dico però senza polemica, perché ovviamente già considero che in un contesto di didattica a distanza vengano a mancare quegli aspetti emotivi di socializzazione, ma anche infrastrutturali che però nulla hanno a che vedere con la gestione emergenziale della scuola. In una intervista che mi era stata fatta, io l'ho chiamata la didattica digitale di prossimità. Vedete quante parole chiave abbiamo imparato a conoscere e parole con cui abbiamo convissuto in questo periodo. Il concetto di cloud, il concetto di CAD e quando ne parlo, parlo del codice dell'amministrazione digitale davanti a Flavia Marzano, naturalmente abbasso il cappello perché Flavia ha visto nascere questo documento ancora disatteso in diversi punti. Parliamo di internet, parliamo di integrazione, didattica digitale integrata, l'integrazione è già nelle nostre vite. Quindi è importante avere chiaro questo. Ed allora, come si colloca però il software libero in questo contesto? Andiamo a scorrere. Siamo stati con Gabriele Ponzo, anche ottimo moderatore di sessione che ringrazio, gli usa in volta anche nella realizzazione delle slides. Cerchiamo di dire tra virgolette molto con poco e lasciare qualche suggestione. Si può parlare di software libero nell'istruzione? Ma certo che sì. Certo che sì. Io mi ricordo proprio nelle immediatezze del primo DPCM di essere stato tra i primi ad aver realizzato un videocorso strutturato su Jitsi. Ed allora, tra le tante risorse che noi abbiamo, abbiamo sicuramente, partendo dal sistema operativo, le diverse distribuzioni di Linux. Abbiamo una realtà come Zorino S, che è una distribuzione pensata per la didattica. Ha anche una pagina divulgativa su Facebook, che diventa in questo caso solo un mezzo di comunicazione, non come cessione di dato. Nel senso che su Facebook troviamo divulgazione didattica, da Zorino S, Education Italia, tanti ambiti, il gruppo animatori digitali liberi, gruppo di studio. Cioè, ci siamo. Dobbiamo essere contemporanei anche nella comunicazione del software libero. Non possiamo essere settoriali, non ci possiamo permettere di essere nerd. Dobbiamo divulgare, dobbiamo comparare per non generare fake news e per aiutare gli utenti a non credere a queste fake news. LibreOffice è una risorsa eccellente, ben lo sappiamo. Vedo sempre lo stupore negli occhi dei colleghi quando lo mostro come programma, software autore in gergo, da utilizzare sulle LIM, oppure ancora come programma in grado di modificare rapidamente un documento PDF. Abbiamo BigBlueButton, la meravigliosa istanza e piattaforma per la lezione sincrona che stiamo utilizzando. La utilizzo tutti i giorni in una istanza personalizzata che si chiama Hub, è stata interamente revisionata da Fondazione Franchi, una fondazione toscana. Abbiamo un sacco di scuole in Italia ed in Liguria che la usano come unica applicazione per la didattica sincrona, con grande criterio di sicurezza e attenzione alla privacy. Abbiamo Audacity, abbiamo Moodle, un'ulteriore piattaforma. Moodle va con Classroom, come sostanzialmente BigBlueButton va con Meet ed ancora in questa rincorsa, perché poi lascio subito la parola all'amico Gabriele, stando così assolutamente nei tempi perché non è necessario dilungarsi per poter essere chiari e porre l'attenzione e il focus su alcune tematiche. I giganti di internet, ne hanno parlato gli amici e colleghi prima. La cultura digitale, lo dicevamo con Italo Vignoli all'inizio di questa sessione del mattino, degli italiani, va innalzata perché altrimenti non ci curiamo di alcune cose importanti, figuriamoci se ci curiamo dei cookies, cioè dei biscotti che tramite la navigazione sul web in realtà hanno una sorta di cessione doppia, no? Li riceviamo e li restituiamo però dando così informazioni sulla nostra navigazione. Eppure la Francia, vedi la fonte che trovate citata qui, ha multato per 100 milioni di euro il colosso Google e per 35 milioni Amazon, dunque possiamo provare a fare qualche cosa. Ed allora, sempre per dare alcune informazioni utili ed alcune suggestioni, ricordo intanto che al termine della conferenza, in apposito link, verranno pubblicate le slides, dunque le presentazioni di tutti noi, di modo che rimangano poi come buona pratica. E Libre Italia è questo, è la casa, e vuole essere, ci tengo molto, la casa delle buone pratiche nella pubblica amministrazione per la scuola e per la nostra vita digitale. Tre links trovate in chiusura, che non commento, li lascio a voi. Un link a una playlist del mio canale YouTube. C'è una rubrica dedicata all'open source a scuola. Ci sono un sacco di risorse per ogni ordine grado, con l'amico Giordano Alborghetti, col presidente Neo Gemmo, con Gabriele Ponzo, con Pia Social, con tanti di noi abbiamo anche organizzato una diretta che abbiamo veicolato su diversi mezzi in cui abbiamo parlato di questi temi. parlarne, non chiudersi in se stessi ed aprire un orizzonte culturale digitale nei nostri interlocutori, perché l'open source è di tutti, per tutti. Non dobbiamo parlare informatichese, dobbiamo usare un linguaggio contemporaneo e attuale e alla stessa maniera e con questo vi saluto con grande piacere. Dici, ma abbiamo in qualche maniera avuto anche dei timbri? Per esempio, nell'ambito scuola è successo qualcosa? Sì, nel 2017, non certo in tempo di pandemia, con l'amica e collega, l'animatrice digitale Antonella Marchesi, ho progettato un corso e derogato a tutto il personale di un istituto comprensivo solo sul software open source e LibreOffice ne era tema chiave. Ebbene, è stato ritenuto questo progetto meritevole di attenzione e da pubblicazione, tuttora consultabile, sulla rivista Media Education del Centro Studi Ericsson, che è una rivista prestigiosa che parla di questo tema. Ecco quanto, insomma, era opportuno dirvi. Credo, come Usain Bolt, di essere stato, insomma, rapido, poi mi asciugherò anche il sudore. Nel frattempo, qui trovate riferimento mail, una serie anche di riferimenti web, quindi dei links per il canale YouTube, per il sito di LibreItalia e non solo. Come direbbe il buon Giordano Alborghetti e saluto anche Italo Vignoli, Paolo Dongilli, che ora, dopo Gabriele, insomma, interverrà. Ecco, l'invito è a essere e sentirsi parte integrante di una community.